Io ho chiamato il 112 perché la signora mette e dice guarda c'è un signore e qua a terra si è fatto male. Io ho chiamato il 112, sono stato le 10, 25 e più meno, sono a me. Non ha sentito proprio la mano a fuoco? No, perché è un'altra parte. Mentre lavoravamo abbiamo sentito tipo due pedardi, ma non ci siamo nemmeno affacciati. Poi sono state altre persone e venivano a dire ah è successo questo, così, con la. Poi quando ci siamo affacciati abbiamo visto la signora poverina che vorrei dire che ancora era anche viva stavano cercando di rianimarla ma non c'è stato niente da fare. Mi sono affacciato e ho visto tutta questa confusione di gente che credavo, quindi mi sono dovuto affacciare. Poi ho visto la signora e mi sono tornato indietro. Abbiamo chiamato qualcuno qua in farmacia magari per coprirla perché è stata una cosa veramente molto toccante vederla da vicino, è stato bruttissimo.